Incidenti sul lavoro. Nel 2021 le morti sono aumentate del 10% rispetto all'anno precedente, escluse le vittime del Covid. Considerando anche questi, i decessi sono 1.361. In aumento le denunce di infortuni, più 20%. E per quest'anno, spiega il presidente dell'INE, il Franco Bettoni, c'è una crescita preoccupante, più 47% da gennaio a maggio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.